Proprio Huck a coprire, attacca come può Robinson Cook, l'alzata qua di Fersino per il palleggio offensivo diciamo così di Karakurt, grande salvataggio Gennari deve inseguire questa palla, cerca proprio Lanier, il tocco del muro, poi la gran difesa di Kuznetsova Signorini deve alzare in bagger, Sakmari cerca una palla morbida e la copre cecchetto Gennari si va da Lanier, il tocco spinto per una rigiocata Ancora in servizio, la ricezione buona Wolosia che va da Huck Pallone tenuto benissimo da Bosetti, Polter col bagger a cercare Adams, che prova usare i polpastrelli Il grande salvataggio di Robinson, poi ancora di là con Eliano, la palla ancora buona verso Karakurt Lo chiude lei in questo punto ed è 8-1 per Novara Lanier un po' in difficoltà, Gennari deve inseguire questa palla, cerca proprio Lanier Il tocco del muro, poi la gran difesa di Kuznetsova Signorini deve alzare in bagger, Sakmari cerca una palla morbida e la copre cecchetto Gennari si va da Lanier, il tocco spinto per una rigiocata Gennari sceglie ancora Lanier che attacca forte Palla lunga, buonissima, sull'incrocio delle linee, chiede la palla fuori Zanini Ma lo vedremo da questo replay La palla è nettamente in campo Che punto meraviglioso, che scambio Si ritorna in campo allora con Eliano al servizio Buona la ricezione stavolta di Fersino Poi i danesi però nel primo tempo, ma il muro c'è a sporcare De Gennari alza il bagger per Hook Il salvataggio di Polter Poi Fersino va a perfezionare altri free ball Per Conegliano non ne approfitta Squarcini, ci va Karakurt Da lontano rete, trova la diagonale Ma viene tenuta ancora poi Robinson Cook Col muro davanti, gioca d'astuzia Mani fuori Con Bergamo che continua Questa sua rincorsa Gennari riesce a recuperare questa palla Con l'aiuto di Cecchetto Deve regalare la free ball Lorena da Silva Poi arriva Kustenzova che prova a picchiare fortissimo Cecchetto ci arriva Gennari prova a dare una palla Che è difficilissima Incredibilmente Lanier la tiene viva Poi l'attacco forte La difesa di Cagnin Deve alzare da Silva Attacca Lanier Punto spettacolare di Bergamo Spettacolo puro Questo punto di Bergamo Hook al servizio Riceve bene Bosetti La palla è ottima per Danesi Va proprio Hook a coprire Attacca come può Robinson Cook L'alzata qua di Fersino Per il palleggio offensivo Diciamo così di Karakurt Grande salvataggio Qui da parte Della 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 difesa di Conegliano Ricostruisce invece Novara E Karakurt a quel punto A strada libera Ci arriva in qualche modo ad alzare qui Verso Ebrar Karakurt Mentre si torna a servire con Cagnin Zakmari Signorile Zakmari La difesa proprio di Cagnin Gennari a cercare da Silva La difesa di Signorile Caravello a cercare Zakmari Una palla difficile Zakmari cerca una piazzata Trova invece da Silva Cercata adesso Lanier Dall'altra parte Caravello Si mole La tiene viva Signorile Per Diop Un diagonale clamoroso Dipinto di Hop Che punto di Cuneo Che punto